Giornata di incidenti mortali ieri a Bari. Nel primo pomeriggio ha perso la vita una ragazza di 19 anni, Antonella Giada Quintavalle, che percorreva il lungomare a sud di Bari su una moto Yamaha 600 guidata da un coetaneo rimasto illeso. In serata invece il 21enne barese Carmine Sibilano è morto in un incidente stradale poco dopo le 22 vicino al ponte di Padre Pio in via Mendola. Il giovane era a bordo di una lancia Musa guidato da un altro uomo che è rimasto ferito. Nella vettura, sui sedili posteriori, c'erano anche due donne e una bambina di due anni. Secondo la prima ricostruzione la lancia viaggiava verso Mungivacca ma dapprima si è scontrata contro una Smart che proveniva da via Omodeo e poi si è ribaltata. Immediato l'intervento delle ambulanze della Polizia Municipale insieme agli agenti di Polizia e vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo del ragazzo dall'auto. Disaggi notevoli per il traffico si sono registrati in quel tratto di strada che invece è molto frequentata. La mamma del giovane deceduto a corsa sul luogo dell'incidente alla vista dell'auto ha avuto un malore. Arrestati per omicidio stradale due conducenti delle auto che sono i domiciliari. Il conducente della lancia su cui viaggiava il giovane che poi è deceduto per evitare di sottoporsi ai prelievi di sangue che potrebbero accertarne l'alterazione ha aggredito i vigili in ospedale. I feriti sono stati trasportati negli ospedali cittadini al lavoro gli inquirenti per comprendere la dinamica dell'incidente. Di certo c'è che la velocità di entrambe le auto è rilevata. Grazie.